Il marcatore a cera Lira porta il colore nel lavoro. Basta togliere l'involucro. È già pronto per una marcatura ottimale. Massima semplicità. Colore per evidenziare. Il modello ideale per il taglio su misura. Versatile come le sfide da affrontare. Marcare i contenuti. Semplicissimo. E se occorre, in sette colori diversi. Marcatura contrastante senza affilatura. Con il marker a cera Lira. Marcatura contrastante senza affilatura. Grazie.